Siamo qui con Andrea Annilli della Solbat Piombino. Oggi siete rimasti in partita per quasi quattro quarti, avete giocato bene, avete giocato bene le vostre carte, avete anche un'ottima prestazione, la doppia-doppia. Cos'è che non è funzionato? Cos'è che vi è mancato alla fine? Noi siamo calati un po' di intensità e, come normale che sia, siamo stati in partita e abbiamo fatto bene. Siamo calati, abbiamo cambiato il corso da poco e ancora non siamo entrati perfettamente nelle sue idee, non riusciamo ancora a mettere in campo quello che lui vuole dall'inizio alla fine. Certo, siamo contenti di essere venuti in questo campo qui e aver fatto una buona partita fino al terzo quarto. Per te, come abbiamo già detto, è una grande prestazione, però nel secondo tempo con la zona hai avuto qualche difficoltà in più? Sì, perché loro hanno alzato di più la difesa, sono diventati più fisici, cosa che magari avevano un po' non fatto all'inizio. Quando è così, con la zona, è sempre più difficile prendere la palla, si lascia magari più spazio, più ritiri da fuori, l'abbiamo presi. Sì, insomma, è questo.